In questo parco puoi dare da mangiare a migliaia di cervi, che per ringraziarti ti faranno addirittura l'inchino. Ci troviamo a Nara e questo è il regno dei cerbiatti. Ce ne sono tantissimi, sono tutti liberi e hanno anche un tempio dedicato a loro. Qui troverai addirittura dei chioschetti che vendono biscotti. E no, non sono per gli umani, vengono preparati apposta per questi animali, considerati sacri in Giappone, e loro ne vanno matti. Dici la verità, quanto ti piacerebbe visitare questo posto?